Termina 1-1 il match tra Aurora, Alto Casertano e Castelnuovo Umano. Gara giocata a viso aperto da ambedue le compagini alla rete realizzata da Emili. Risponde a tempo scaduto tra le proteste e ospiti il rigore di Maidana. Prima chance degna di nota al quinto, Longobardo stampa il palone sulla traversa tra la disperazione dei campani. Un giro di lancette dopo ci prova Balsamo, pallone alto. Al decimo episodio Damo Viola, Bubalo viene colpito in aria a gioco fermo. Il direttore di gara lascia correre alla mezz'ora delizioso filtrante per Morelli. L'estremo di casa riesce ad anticiparlo di un soffio. Nella ripresa ci riprovano i padroni di casa al settimo con Romeo. Slalom, l'Alberto tomba, assist a Maidana ma Alonzi disinnesca il tiro cross. Gli neroverdi non stanno a guardare. Emili dal limite prende la mira, pallone fuori di un soffio. Poco male per i terramani. Al ventisiesimo il neo entrato De Gidio calza i panni di Superman e con una sola si procura il calcio di rigore. Dal dischetto Emili ringrazia e confeziona il vantaggio ospite. 120 secondi dopo sulle ali dell'entusiasmo è ancora De Gidio a cercare il raddoppio ma l'aurora alto casertano non ci sta. A quattro dal termine. Secondo legno di giornata questa volta a titolo di Longobardo. La Dea bendata avara con i campani. Li ricompensa nel recupero. Su azione confusa in area. I padroni di casa conquistano un rigore tra le vibranti proteste abruzzesi. Dal dischetto Maidana sigla il pesante pareggio. Non succede più nulla. Aurora alto casertano e Castelnuovo si dividono la posta in palio. In un match che sorride alla truppa di mister di Costanzo da una parte ma fa inviperire i ragazzi di mister di Fabio dall'altra.